Un cordiale saluto di benvenuto alle telespettatrici e telespettatori del Consorzio Teleambiente, Teledonna, RTVA, TO2, Consumatori Channel. Naturalmente ringraziamo il dottor Rosario Trefiletti, presidente di FederConsumatori, per questa intervista che poi voi, oltre che sul digitale terrestre, potete anche vedere su www.teleambiente.it, www.teleagenzia1.it e www.federconsumatori.it. Noi siamo qui nella sede della FederConsumatori tra un impegno televisivo e un altro. Presidente Rosario Trefiletti, entriamo subito nel merito. Più di 13 milioni di italiani votano contro le trivellazioni in mare. Il referendum non passa, ma dà un segnale chiarissimo a Palazzo Chigi. Beh, innanzitutto diciamo che io sono andato a votare e sono rimasto anche un po' esterefatto che ci siano state, diciamo così, degli inviti al non voto. No, io sono uno che a votare appena c'è una votazione corro e ci mancherebbe altro. Ho votato sì, anche perché nel merito io credo che lo sviluppo economico del Paese si debba basare sulle energie alternative, su un nuovo sviluppo ecocompatibile, ecosostenibile e via dicendo. Quindi ho votato sì con grande convinzione. Poi naturalmente il giudizio che do è che milioni di cittadini a fronte, lo vogliamo dire tutta, di un'informazione un pochino sbiadita sulle questioni del no-triv, delle trivelle o che altro, insomma si parla in queste ore molto di più dei risultati positivi o negativi del referendum che invece dell'informativa che avrebbe dovuto esserci per il referendum stesso. Quindi, lo ripeto, sono andato a votare, ho votato sì e naturalmente è una cosa importante che dovrà coinvolgere il Paese nella prospettiva di uno sviluppo economico ed energetico basato appunto su canoni completamente diversi. Ci fermiamo su questo punto perché Feder Consumatori, difesa dei consumatori, abbiamo registrato con molta tristezza che il Tg1 di Mario Orfeo ha dedicato solo 13 minuti, che in altri talk show nei quali Valè, in quelli della Rai, si contrabbandava che soltanto 9 regioni, quelle che hanno promosso il referendum, non avrebbero votato e addirittura Barba Papà dice quelli che sono in Lombardia o in Piemonte non gli interessa di votare, cioè Stampa Repubblica ha già cominciato a fare i suoi deleteri effetti sul ruolo dell'informazione, ma che lo faccia un decano dell'informazione e Presidenti emeriti, questo credo che sia un vulgo sottale per la democrazia, coloro i quali poi dicono quando ci sono le celebrazioni e fra qualche tempo avremo, il 25 aprile vanno in piazza a… Sì, condivido in pieno questa critica, infatti sono rimasto anch'io abbastanza indignato a questi inviti a disertare una cosa che è fondamentale per la democrazia, il referendum, le votazioni, la presenza stessa del cittadino che deve contare, insomma sono rimasto anch'io indignato, ho già detto sull'informazione, aggiungo che effettivamente poi quando anche si muovono le cosiddette istituzioni a dire di non votare la cosa mi indigna ancora di più, dispiace che Presidenti emeriti della Repubblica abbiano fatto ciò. Lei quando si troverà nei talk show tanto vituperati dal Presidente del Consiglio che però guarda caso li segue quindi capisce che c'è una presa sul cittadino, lei ringrazi il suo amico Presidente della Regione Puglia Emiliano per la chiarezza, il coraggio, la forza con la quale si sta battendo, difende in questo caso la sua casta positivamente quella dei magistrati, forse Pier Gavillo D'Amico ha cominciato a dare un senso positivo. Sì, devo ammettere che ci dobbiamo un po' ringraziare a vicenda perché io stesso sono stato a potenza in Basilicata, ho ottenuto delle conferenze stampa, ho fatto delle iniziative proprio su il voto e poi anche per votare sì. Quindi ci dobbiamo ringraziare un po' a vicenda e il problema vero è continuare questa battaglia, continuare questa battaglia per la democrazia e per il nuovo modello di sviluppo. Altro tema caldo, la busta arancione. Non so, questo lo dice sempre il cronista, lei può essere d'accordo o meno, se il Presidente dell'Inpse Boeri lo fa per gioco, lo fa perché ci crede, perché una persona come lui dovrebbe battere i pugni sul tavolo e dire signori non sto al gioco, ma lo capiremo nel proseguio degli avvenimenti. Guardi, anche su questo, che ci siano delle iniziative informative al cittadino di come potrebbe essere la propria pensione quando si raggiungeranno i requisiti o che altro, questo potrebbe anche essere considerato positivo. Poi per la verità, quando poi la busta arancione diventa un po' troppo oroscopo, un po' troppo distante dalla realtà non virtuale ma concreta, del rapporto del cittadino con la propria collocazione lavorativa, operativa e via dicendo, beh, questo comincia magari a mettermi qualche sospetto. Non vorrei che fosse una bella campagna per poter spingere verso forme assicurative che fanno contenti e gioiose le compagnie di assicurazione, mentre invece le problematiche francamente sono altre. Certo, informare va sempre bene, però le problematiche sono quelle di arrivare a soluzioni rispetto alla tematica così importante della pensione, di quello che si andrà a prendere della pensione. Non dimenticando mai una cosa che, ahimè, mi sembra che sia un po' dimenticata nel dibattito. Noi abbiamo un sistema a ripartizione. La ripartizione cosa significa, per essere chiari per i cittadini? Significa che quelli che lavorano oggi pagano le pensioni oggi in essere e la cosa continua così. Quelli di domani, quelli che lavoreranno, pagheranno le pensioni di quelli che andranno in pensione domani. Se la questione è questa e il sistema è questo, è del tutto evidente che in un paese in cui c'è una disoccupazione al 12%, soprattutto per i giovani, drammatica, anche eticamente scorretta, al 40%, e in più non si fanno figli, questo è un paese che per il sistema a ripartizione, con questi dati si farà saltare il sistema, perché chi pagherà le pensioni se le abbiamo disoccupate da una parte e i giovani che non lavorano dall'altra? Ecco perché io dico, e abbiamo fatto anche dei calcoli, che la problematica vera delle pensioni è da un lato, e poi semmai ne parleremo, la modifica della Fornero per fare certe operazioni di giustizia, di equità per chi sta lavorando e via dicendo. Ma la questione vera è quella di aumentare il tasso di occupazione, non di disoccupazione. Abbiamo calcolato che se si andasse di nuovo a un tasso di disoccupazione al 6% anziché al 12%, come più o meno adesso è, beh ci sarebbero 14 miliardi di euro in più che andrebbero verso le casse dell'Inps per poter appunto sostenere il fondo pensioni e altre cose ancora. Quindi il vero problema è quello, è lo sviluppo del Paese, perché con lo sviluppo del Paese hai un aumento contributivo, hai una diminuzione dell'assistenza che va sempre a carico dell'Inps rispetto alla fiscalità generale, all'Inps e via dicendo. E quindi il vero problema è lo sviluppo, poi naturalmente le regole delle pensioni. E allora possiamo già entrare sulla seconda questione, che è quella di modificare la Fornero rispetto all'uscita del ciclo produttivo, perché non è più possibile che un conduttore di mezzi pubblici in una città metropolitana debba andare in pensione in uguale misura come per esempio un, non si offendano i giornalisti, come per esempio il lavoro di un giornalista o un'operatività che può mettere in campo tre filetti, che può arrivare anche a 75, 80 anni. Cioè un conto è fare questo tipo di lavoro, un conto è fare un lavoro usurante. Ecco perché giustizia significa anche diversità di trattamenti. Ma il Presidente del Consiglio su questo versante non ascolta, perché qui si tratta di decidere quale modello di sviluppo. E naturalmente teniamo conto che viviamo in un modello di struttura che è il capitalismo. Quindi il capitalismo non guarda in faccia a nessuno. Dove faccio guadagno mi sposto. Ma per un Paese come il nostro, quale prospettive ci sono? Io voglio proprio però dire un paio di questioni. Allora la prima, il sistema è questo, è il sistema del capitalismo, ma bisogna intervenire almeno su due questioni fondamentali. La prima è quella che il nostro sistema economico, il capitalismo, deve essere assolutamente sgombro da elementi di corruzione, di coinvolgimento di lobby corruttive e di poca trasparenza e chiarezza del sistema economico. E secondo ci devono essere delle regole di chiarezza e di trasparenza e anche di verifica e di controllo da parte delle autorità. Altrimenti qui non si tratta di fare capitalismo, qui si tratta di fare far west e il far west fa pagare un po' tutti, ma soprattutto quelli che sono meno abbienti. Vediamo il caso delle banche, vediamo il caso di tutti i processi nei vari settori, anche quelli energetici o che altro. Da un lato assistiamo proprio per la mancanza di verifica e controllo e anche di deontologia e di etica a quello che abbiamo visto per quanto riguarda il disastro della Basilicata, le telefonate, le intercettazioni, le amicizie parentali e via dicendo. E dall'altra parte abbiamo visto che la mancanza di verifica e controllo ha comportato in alcuni settori la perdita di benessere o comunque di normale essere delle famiglie italiane per quanto riguarda il loro risparmio. Ecco perché al di là delle discussioni di carattere ideologico la cosa vera da fare sono le grandi battaglie contro la corruzione, contro la non trasparenza, la non garanzia di chiarezza e di trasparenza e dall'altro lato il fatto che tu devi avere dei poteri di verifica e controllo che per esempio come Banca d'Italia e Consum sono stati del tutto disattesi. Rimaniamo su questo tema, due riflessioni. La prima dopo il referendum la premiata ditta Giorgio Matteo vuol toccare le intercettazioni perché hanno capito che sono per la loro parte politica un momento di verifica e qui entra sempre in gioco il ruolo dei consumatori. Cosa dire su questo tema? E l'altro, lei è molto chiaro nelle sue esternazioni, nelle TV pubbliche, pubbliche private, nazionali, quando risponde ai sottosegretari del governo sì, ma togliete quelle righe sulle versioni di reversibilità. Dico subito sulle intercettazioni che noi siamo perché non siano toccate nella maniera più assoluta. Poi ovvio che ci vuole un sistema anche di autocontrollo, oltre che di controllo per quanto riguarda la privacy dei cittadini. Un conto è l'intercettazione, è l'intercettazione su un malaffare, un conto è se qualcuno è andato a bere un aperitivo con una signora, una signorina o che altro. L'altra questione, anch'io sono d'accordo e per la verità mi sono anche leggermente indignato quando continuo a sentire giuriamo che non verranno toccate, no, vi assicuriamo e non verranno toccate. No, è semplicissimo, cancellate quelle quattro righe che sono scritte nella legge di povertà e nella legge anche di stabilità, cancellate laddove si dice che si possono utilizzare sistemi di razionalizzazione, di pensioni, bla 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 bla, ma io traduco in concreto, sono le pensioni di reversibilità. Quando non ci saranno più quelle quattro, cinque righe, allora io crederò alle promesse che vanno i politici che vengono a dire che non saranno toccate le pensioni di reversibilità. Però è vero, anch'io assisto a volte a fughe, non in avanti, ma fughe all'atere, a destra o a manca, nel senso che a volte le risposte sono molto evasive, oppure sono le solite promesse che poi o non vengono mantenute, oppure vengono mantenute all'incontrario. Vi faccio un esempio, questa questione per esempio dell'IVA, del sistema delle clausole di garanzia, vengono sempre dette ma non c'è problema, non c'è problema, poi insomma la traduzione del non c'è problema è che bisogna pagare 15 miliardi, altrimenti scattano le clausole di garanzia che sono l'IVA, di salvaguardia, di garanzia, che sono l'IVA che aumenta fino al 25,5%, con una ricaduta, abbiamo calcolato anche quello, di circa 800 euro in più a famiglia. Allora, per cortesia voglio maggiore chiarezza e determinazione e soprattutto, lo dico francamente, non voglio più vedere clausole di salvaguardia o di garanzia come le chiamo io. Risparmio tradito, una grande battaglia e adesso cosa sta succedendo? Perché lei lo incontra sempre, il sottosegretario Gianetti dice faremo, 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 ma qui cosa si fa e cosa veramente non si fa? Si sta profilando qualcosa che io trovo interessante, lo voglio dire con molta franchezza, anche ognuno poi è libero di dare i giudizi che ritiene più opportuno e però noi abbiamo fatto delle belle iniziative ed è una bella battaglia rispetto a questa questione. Guardate che siamo partiti con il fatto che non se ne voleva parlare nei sistemi di comunicazione, soprattutto parlo dei grandi sistemi, dei grandi gestori, non se ne voleva parlare. Ogni volta che io e il mio carissimo amico e collega Elio Lannutti dell'Adusbe tentavamo di parlare di questo nelle trasmissioni dove generalmente siamo invitati, si cambiava discorso. E questo l'abbiamo notato con grande determinazione. In più, quando si parlava negli ambienti, per così dire, quelli che gestiscono, amministratori, politici o che altro, beh molti liquidavano la cosa dicendo, ma non ho capito, ma cosa volete? Sono fallite le banche che si trascinano dietro a quelli che hanno creduto in quelle banche. Questa era l'opinione corrente, il no all'informativa e l'opinione corrente era, vabbè, cavoli loro, hanno investito sbagliando perché secondo questi individui dovrebbero essere tutti laureati alla Bocconi, non in economia, laureati in economia alla Bocconi facendo anche un master, allora in questo caso se avessero perso erano, diciamo così, insomma, vabbè, erano laureati, insomma, loro per loro erano tutti laureati in economia, noi invece pensionati, lavoratori che avevano lavorato tutta una vita, che avevano messo da parte qualche prima lira e poi euro e quindi si sono ritrovati così. Allora, partivamo da ciò e adesso invece siamo in una situazione che grazie a queste iniziative, grazie alla battaglia fatta e grazie anche alla stessa vostra televisione, la gestione che voi fate di questo mezzo televisivo, che siete stati sempre presenti, ve ne dobbiamo dare atto e vi dobbiamo ringraziare su tutte le iniziative, si sta profilando in questa fase per adesso per gli obbligazionisti, bisogna essere molto chiari, quelli che hanno comprato obbligazioni subordinate. Si sta trovando una soluzione che può essere dalle cose che noi adesso sappiamo, certo verificheremo dal disegno di legge, dalle norme, dai dispositivi, certo che dovremo fare tutte le verifiche del caso, ma si sta profilando una risposta interessante per chi è stato rapinato del proprio risparmio. Poi si aprirà anche, dopo la soddisfazione degli obbligazionisti, il problema dei piccoli azionisti, anche questi gabbati e truffati da tanti sistemi che abbiamo già detto, di condizionamento molto forte, qualora tu avevi chiesto dei mutui, ti diamo il mutuo ma tu devi comprare il 20-30% delle nostre azioni, eccetera, eccetera. Questa è la seconda fase che noi dovremo anche affrontare e risolvere. Però già primi risultati io credo si possono già verificare in questa settimana con i decreti che il governo si appresta a varare. Ci auguriamo, lo verificheremo e naturalmente ci auguriamo che si vada in quella direzione. Tre temi che possiamo correlare. Energia, i cittadini denunciano gli aumenti avvenuti a causa dell'adozione di un nuovo sistema tariffario urgente, dice la Federa Consumatori con l'Ato, per disporre una riforma del bonus sociale e non eliminare il mercato tutelato. Naturalmente l'Istat conferma la deflazione e questo nonostante il tentativo di Draghi con questo tanto illustrato quantitative easing, la crisi c'è, morde e poi naturalmente rentreremo anche sull'exatta question di questo Cano e Rai che è un'altra di quelle renzate, lo dico io. Cano e Rai, noi sin da subito abbiamo detto che non ci piaceva questa questione del Cano e Rai nella bolletta elettrica, non perché vogliamo difendere gli evasori di un canone, non entriamo nel merito di questa questione, noi diciamo che il collegamento Cano e Rai bolletta elettrica aprirà come già anche il Consiglio di Stato nei suoi rilievi molto importanti, ha già cominciato a dire, una serie di contenziosi incredibili. A parte il fatto che c'è il fastidio che prima il compito di togliere l'evasione era da parte di chi aveva questi compiti preposti, adesso invece è la famiglia che deve fare le autocertificazioni e già questo è un compito che grava sulla famiglia e lo dovrà fare ogni anno, è una cosa francamente fastidiosissima. Ma poi c'è il fatto dei contenziosi, quando per esempio ti arriverà la bolletta, il cano e Rai sulla bolletta anche di una seconda casa o quando ti arriverà la bolletta, la bolletta e il cano e Rai per il figlio studente universitario che va a Bologna e che affitta per determinati mesi un appartamento, oppure quando ti arriverà il cano e Rai che tu non hai l'apparecchio e ti arriverà lo stesso e tu non hai l'apparecchio ricevente. Insomma si apriranno dei contenziosi e in un ultimo proprio così ci agganciamo alla liberalizzazione del settore. Pensate voi quando ci sarà una trasmigazione di molte famiglie da un gestore all'altro. Capire e aggiornare continuamente il fatto che uno ha cambiato gestore, cosa arrivano? Due bollette, due canoni, non arriva nessuna bolletta e nessun canone per poi partela pagare tutto in un botto dopo. Insomma ci sarà un contenzioso importante. Quindi noi siamo sempre stati contrari e noi ci auguriamo che ci sia almeno un sussulto di responsabilità rispetto a queste questioni. Detto ciò entriamo nel merito dell'energia. Allora guardate l'abbiamo denunciato e continuiamo a denunciarlo e a volte con forte ragione perché già abbiamo i primi segnali. Il fatto che è modificato il meccanismo del pagamento della bolletta elettrica per cui pagheranno di più chi consuma di meno e pagheranno di meno chi consuma di più che è già di per sé una roba obrobriosa. Ma cominciano ad arrivare molti cittadini a denunciare che con la loro sobrietà si stanno ritrovando con delle bollette decisamente più elevate di quanto pagavano prima e quindi con un grave rischio di non poter appunto pagare quello che è uno dei servizi fondamentali che è la luce, la corrente elettrica o che altro. Ecco quindi su questa questione bisogna riflettere perché sarà un'abbastonata molto forte per i cittadini soprattutto quelli più sobri. Ecco e quindi anche per queste ragioni guardate la liberalizzazione, la liberalizzazione del settore nel 2018 è una cosa che ancora non sa da fare perché ancora questo sistema è molto poco trasparente, molto poco chiaro e ci sono tanti contratti truffa, contratti che non si sono richiesti, noi ne abbiamo circa 90.000 di questi casi e quindi non si può andare in quella direzione. Ma lei mi deve permettere che mentre parlavo mi è venuta in mente perché questa questione della liberalizzazione del settore fa parte di una legge che abbiamo considerato abominevole, il disegno di legge concorrenza che è stato in discussione alla Camera, in discussione al Senato e adesso dovrebbe ritornare alla Camera. Noi ci auguriamo che questo disegno di legge venga cassato, venga assolutamente ritirato e guardate l'abbiamo denunciato in tempi non sospetti, adesso si denuncia giustamente la Guidi, ma avevamo già denunciato che quel disegno di legge che è stato sfornato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Guidi, dall'ex Ministro, era un disegno di legge che faceva solo ed esclusivamente favori alle imprese, alle imprese elettriche, alle imprese energetiche, alle imprese di telecomunicazioni, alle imprese di assicurazione e alle banche. E allora che cos'è che vi andate a stupire che una lobby sia intervenuta su il petrolio in Basilicata? Ma lì nel disegno di legge erano tutte le lobby che erano già intervenute rispetto a queste questioni che avrebbero dovuto portare invece favori e vantaggi ai cittadini, non alle grandi imprese. Quella denuncia che noi facciamo in Parlamento, non solamente con i comunicati, c'è una registrazione in Parlamento di questa nostra denuncia, beh insomma trovò abbastanza zitti molti interlocutori, mentre invece avrebbero dovuto parlare e denunciare la cosa. Sulla questione della TIM, l'ex telecom adesso TIM, che vorrebbe togliere anche quei canoni pensionati perché dice anche voi dovete pagare la DSL, c'è stata una pronuncia negativa dell'Agecom, forse questo cominciate a interessare i diretti interessati perché anche per l'energia accada ciò. Ma certamente, ma infatti su questo anche qui abbiamo denunciato la cosa, abbiamo fatto intervenire l'autority che è intervenuta bene, si tratta di modificare questi meccanismi che svantaggiano appunto le fasce deboli del Paese, i consumatori, quelli più deboli perché un conto sono i grandi fruitori di questi servizi, un conto sono i pensionati che fanno qualche telefonata al giorno. E poi diciamola tutta, anzi, se qualche pensionato fa qualche telefonata in più è meglio, almeno tiene il rapporto telefonico che dovrebbe invece essere personale con figli, nipoti, parenti perché molte volte c'è la solitudine del pensionato, dell'anziano che invece dovremmo essere un po' tutti più accorti. Chiudiamo con questo tema dei consumi, la ripresa, la domanda interna e il mercato occupazionale. Allora, questo è il punto vero della situazione, lo sviluppo economico se c'è, non c'è, cosa fare e cosa non fare. Allora, intanto riconfermiamo che la nostra economia non può mica basarsi solo sull'esportazione perché se si basasse solo sull'esportazione, a parte che sarebbe sbagliato, ma anche in termini pratici. Se poi succede che per la battaglia tra l'Arabia Saudita e la Russia, che sono paesi in cui esportiamo, si corre il rischio che poi la caduta del potere d'acquisto dei russi scende, oppure anche perché ci sono le sanzioni o che altro, ma il discorso ci porterebbe troppo lontano e quindi la domanda di mercato scende notevolmente su quei paesi che esportiamo, beh, non è una risposta di carattere strutturale come noi vorremmo che fosse, quindi le nostre esportazioni sono anche esportazioni che si basano sui condizionamenti internazionali, esterni al nostro paese, non possiamo basare il nostro sviluppo su condizionamenti che possono essere labili o comunque mutevoli e quindi questo è il primo punto, dobbiamo puntare molto sullo sviluppo interno, ma guardate, non c'è sviluppo interno se non si mette mano a un problema fondamentale che è quello dell'occupazione, quello dell'occupazione non è solo un problema etico, lo è certamente, perché i giovani che non lavorano al 40% è un problema etico, un paese civile se ha il 40% dei suoi giovani che non lavorano, no, non è etica la cosa, però non è solo un problema etico, è un problema anche di carattere economico, perché i giovani che non lavorano non solo non hanno ovviamente le entrate economiche per aumentare il mercato interno, ma pesano sempre per quanto riguarda il potere d'acquisto delle famiglie su nonni, parenti, genitori che spendono per il mantenimento, perché non hanno entrate di giovani, dei figli e dei nipoti almeno per 450-500 euro al mese, questo comprime fortemente i consumi, oltre l'altro dato dell'insicurezza, perché quando si è in una situazione di insicurezza o aumenta il risparmio quando c'è il potere d'acquisto, oppure comunque non si compra perché si è insicuri, non si sa come andrà il domani o che altro, e allora questa è una tematica fondamentale da un punto di vista economico, lo sviluppo passa solo se si fanno investimenti in vari settori con un piano straordinario del lavoro, io lo chiamo così, quindi bisogna che ci sia un piano straordinario per il lavoro, che mettendo al suo interno tutto quello che si può fare, tagliendo gli sprechi, tagliando i privilegi, non facendo regalie, diversi rivoli di regalie e via dicendo, si metta tutto insieme e questo tutto insieme determini un piano straordinario per dare lavoro ai giovani e anche ai meno giovani che rimangono disoccupati tra la soglia dei 50 anni, però il problema vero sono il 40% dei giovani che non lavorano, ecco solo così si può uscire dalla crisi. Siamo in chiusura, due domande che poi amplieremo nella prossima intervista, ma come riflessione immigrazione, tutti ne parlano, ma nessuno dice un tema più importante, non causate le guerre in quei paesi e sicuramente non avremmo avuto questo dramma, Saddam Hussein, Gheddafi e i tentativi di far cadere Assad che hanno creato una tragedia, oggi sono preoccupati dell'Egitto, non hanno capito che l'Egitto si vuole annettere la Cirenaica come vecchio progetto degli anni 50, lei lì le parlano sempre di questo tema? Ecco, ma ditegli, ma siamo noi che esportiamo le armi, smettiamola, perché poi questa questione dell'immigrazione è un gioco sempre a un finto buonismo o allo sfruttamento di manodopera che poi determina la crisi dei paesi. Sì, lei ha toccato però il punto fondamentale che è quello della situazione come è stata determinata, perché se si fugge dalla guerra, ed è giusto fuggire dalla guerra, e se la guerra l'abbiamo determinata noi occidentali, beh, assumiamoci anche le responsabilità di quello che abbiamo fatto, che non è solo la rivisitazione delle scelte e dire abbiamo sbagliato, come già sento dire anche importanti leader, abbiamo sbagliato, sì ho capito, abbiamo sbagliato ma poi ci vogliamo anche correre ai ripari, e correre ai ripari non significa per esempio fare una politica contraria all'accoglienza e nello stesso tempo far finta di nulla per poter esportare, in questo caso sì, le armi che servono alle battaglie, alle varie battaglie tribali o, peggio ancora, anche tra stati, mi dispiace doverlo dire, nella parte del pianeta che sta soffrendo ormai da decenni, da cinquantenni, insomma che è il Medio Oriente, la polveriera medio orientale, insomma lì ci abbiamo messo le mani noi da sempre e le guerre sono verificate o direttamente o indirettamente abbiamo anche le nostre precise responsabilità, bisognerebbe proprio riflettere molto di più su queste cose. Richiesta di te l'ambiente, quando va sempre nei talk show, quando parlano di pensioni, l'ultima domanda che ci hanno sempre detto, lei sa quanto costa un litro di latte o un pacco di pasta, ecco dica a quelle persone e a voi eri in testa, quando parli di ricche pensioni vuoi spiegare se sono lorde o nette? Perché loro che non hanno mai vissuto, non hanno mai avuto il problema di pagare la bolletta o non pagarla la bolletta, queste cose non le capiscono, glielo spieghi chiaramente, lordo o netto? Così forse cominceranno a capire quanto costa un litro di latte. Sì, glielo spiegheremo, glielo abbiamo anche tante volte spiegato, il problema vero è cambiare anche questa Fornero e fare giustizia sulle pensioni, perché un conto è dare una risposta a uno che ha un lavoro di un certo tipo, mentre invece no ad altri lavori che potrebbero essere serenamente e tranquillamente affrontati in maniera diversa. Sì, spiegheremo, cercheremo di spiegare ancora di più e ancora una volta come effettivamente ci sia una netta differenza tra il lordo e il netto delle pensioni. E proprio flash finale, perché parlate sempre di legge Fornero? Questo Presidente del Consiglio non la vuole cambiare, perché se volesse con la maggioranza che ha la cambierebbe in 48 ore, la Fornero a mio giudizio ha altri progetti perché fa la Giovanna d'Arco e si assume tutte le colpe, perché lui la legge non la vuole cambiare Renzi. Guardi, anche qui siamo nelle promesse e nelle realizzazioni, ogni volta che io partecipo al talk show, come lei giustamente ricorda, dicono tutti la cambieremo, nella prossima legge di stabilità la cambieremo, eccetera, ormai il dibattito va avanti da due anni, la cambieremo, la cambieremo, la cambieremo o speriamo che questa volta sia la volta buona nella prossima legge di stabilità. Grazie al Dottor Rosario Trefiletti, Presidente di Feder Consumatori, vi seguiremo e vi daremo voce, voi ne avete tanta, ma è sempre bene toccare tutte le fasce della popolazione. Seguiremo come sempre Teleambiente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.